Il trend è assolutamente positivo, è un'estate sicuramente di ripresa, un 10% sulle presenze del 2019, anno pre-pandemia, quindi assolutamente dei dati ottimi, speriamo che continui così. Più stagionali o fine settimana per quanto riguarda le prenotazioni negli stabilimenti balneari? Assolutamente più fine settimana, ma di molto, molti stranieri. Si avverte la mancanza dei russi? Nelle zone più di Ponente sicuramente sì, per il resto viene sostituito molto bene da tedeschi, francesi e belgi. Ci sono dei ritorni importanti per quanto riguarda i turisti? Sì, abbiamo una grossissima presenza francese, che era un po' di anni che puntavano più al sud Francia e i tedeschi, i tedeschi hanno ripreso fortemente le presenze in Liguria. Qualità del mare, crescono le bandiere blu? Sì, quest'anno in Liguria sono cresciute, mi pare che siano arrivate a 77, un record per l'Italia e un record anche in Europa, quindi la Liguria è sempre di più un sinonimo di qualità, di mare pulito e di accoglienza. Grazie. 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 Grazie.